Bene ragazzi, nuovo pacco da Amazon, unboxing, vai Alessandro, no no no, non metti la mano qua, eh, qua, papà Non ci metti, non tagli qua e ci metti la mano qua, ricordate i bambini a casa, è pericoloso, capito? Bisogna imparare, qui non metto la mano qua se poi fa così, vedi la mano non è in traiettoria, eh? Attenzione, unboxing, vai Alessandro, solleva, no no, devi rimanere dentro la telecamera Apri, ok, questo via, eh, due cose, fai vedere Adesso, tocca le mani, fai vedere, fai vedere, non sei nella telecamera, fai vedere Questo, vediamo, qua, qua L'apro io, l'apro io Sì? Allora, prima di tutto ragazzi, tocca fare così Tocca togliere di questo qui che sta qui Però, non so tanto bravo perché non l'ho mai fatto, però È l'unica roba che vuoi fare Quindi, ecco, fatto Bravo Ale, complimenti E adesso apriamolo Allora, da dove e da qui Che cos'è secondo te? Boh Ragazzi, qui c'è scritto, AQA 4,8 Ampere Ma stiamo scherzando, ah, perché ce ne sono due USB Da Tu apri Hai ragione che è difficile Eccola È una scatuletta Aspetta Aspetta che la faccio io Non è facile Qua, Ale, damela qua Eccolo, guardate come si apre, così Come sembra, male Gira Eccolo È piccolo Fai vedere È una scatuletta Eccolo ragazzi, che cos'era, che cos'era Per la macchina, piccolo piccolo Va proprio a sparire dentro Però c'ha due caricatori Ecco, ecco Da 2 Ampere, vedete E da 2 Ampere E guardate cosa ha fatto 2,4 Libretto di istruzioni Guardate Guardate Provo io Questo qui io ci gioco Ottimo ragazzi Adesso apriamo questo qui grande Adesso apriamo questo grande Allora qui c'è la plastica Allora dove lo faccio io Senza mette la mano Tieni Dove lo metto? Questo qua Attento Sì Bravo Adesso controlli qui Senza che E tagli qua Attento Tento Tento col coltello Apri tutto Lascia col coltello Che poi sempre Fai con le mani Ho sentito una cosa Che Che sta a farlo Buono Benissimo E' fatto che si fa così Guardate Allora Tocca fare come prima Così Delicatamente Vedi tutto facile Con questo A seconda L'uscita Però Alessandro Impara bene Lo sai che c'è gente Che lavora facendo L'unboxing Sai che cosa vuol dire Unboxing Sì Che vuol dire Vuol dire Aprire la scatola Tu sei piccolo È la tua prima esperienza Lo sai che se diventi brava Potresti diventare Un professionista Dell'unboxing Ad aprire le scatole E' uno dei lavori Più belli del mondo Dopo quello Del collaudatore Di materassi Fammi vedere Si ha capito Dove non devi mettere la mano Così Così non ti fai male Però Così Adesso mi fai male a me No no Così no Così no Guarda Questo Lo puoi dire Un po' le togli Guarda Togli Bravo Vediamo la scatola Ragazzi Quello Adesso Tocca capire Da dove si Il colore E' nero Non bianco E' un po' bianco Uno bianco Uno nero Va bene Dammela Non si apre Questo C'è questo qua Ah questo Ma che stai Impara bene A aprire la scatola Che questo È il lavoro Oramai Del Del prossimo decennio Buono Una volta che è aperto Questo si sfida Su Allora È nero Oh mamma Ce l'hai tu? Sì Allora un altro Ma che cosa serve Questo Ragazzi Oh guardate Questa Abbiamo trovato Sì Guarda guarda cosa ho trovato Guarda Ottimo Ma che cosa serve Questo Tu Ci puoi appoggiare Un Telefono Rimane attaccato Con la ventosa Adesso Ti facciamo vedere Che questo Lo puoi attaccato A qualche parte Nella sedia Facciamo No 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 E' già lungo Questo Questo Va bene Questo E questo E guardatelo Ti prego Buono Buono